Un buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla variante di Valico in direzione Roma rallentamenti per traffico intenso tra il Livio A1 Variante e Badia. A causa di uno sciopero dei benzinai molte delle aree di servizio della rete autostradale rimarranno chiuse nelle giornate di oggi e di domani. Sulla FIPILI per lavori di manutenzione al viadotto del Turbone, possibili disagi in entrambe le direzioni tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Sul raccordo Bettolle-Perugia fino al 2 giugno per lavori nei pressi dello svincolo di Pietraia, scambio di carreggiata e chiusura dello svincolo in direzione Perugia. Moversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!